Buonasera e bentornati a Tu per Tu con. Oggi chiudiamo la settimana con un graditissimo ritorno, la pediatra di Tu per Tu con, che è la nostra mitica primaria di pediatria dell'ospedale civile di Vigevano, Lidia Decembrino. Bentornata Lidia. Bentrovati, grazie, grazie. Grazie mille di rispondere sempre alle nostre chiamate e di essere sempre disponibile. Speriamo davvero che, io dico, a fronte di un periodo, speriamo di essere alla fine di questo periodo che vi ha trovati veramente messi, vi ha messi in croce, diciamo, le cose come stanno. L'impegno è stato tanto perché dopo l'estate pensavamo di non dovere più affrontare un'ulteriore ondata, invece siamo stati investiti a questa quarta ondata che ci ha messo ancora una volta a dura prova. E questa nuova ondata, mille studi erano stati fatti, mille cose erano state dette, ha un po' sparigliato le carte e quindi anche i bimbi, in questo caso per fortuna in maniera non grave, ma sono stati colpiti da Omicron, sembra quasi come gli adulti, questa volta non c'è stata differenza. Perché questa variante è estremamente contagiosa, forse 150 volte più contagiosa della variante Delta o delle varianti precedenti. Poi c'era stata la campagna vaccinale che aveva interessato gli adulti, per cui i bambini erano rimasti un po' scoperti. C'è stata una fase in cui l'epidemia da Covid stava diventando, assumendo le connotazioni, di una epidemia di tipo pediatrico. Ecco, e questo insomma, con tutte le conseguenze, per fortuna poche dal punto di vista proprio medico, ma tante dal punto di vista insomma del vostro lavoro e anche dell'ansia che provoca nelle famiglie avere a casa dei bimbi positivi. E non per ultima, anche se la diciamo per ultima, la gestione della burocrazia. È vero o no Lidia? Tanta, tanta burocrazia insieme all'assistenza clinica, per cui tante notifiche, tante segnalazioni. Bisogna stare molto attenti ad una precedente infezione, all'intervallo di tempo tra infezione e vaccino. Stare anche molto attenti alle diverse forme cliniche che si sono sviluppate. E questo si è accompagnato anche ad una complicazione della burocrazia. Va di pari passo. Ecco, allora, io vi ricordo i numeri per interagire con noi in diretta, è importantissimo, 366-118-8002 per le vostre chiamate in diretta, per i vostri whatsapp, oppure 0381-09-1451 per telefonare in diretta e parlare proprio con la nostra pediatra. Allora Lidia, a proposito, l'hai accennato, la campagna vaccinale nei bimbi, come sta procedendo? Sta procedendo bene, dopo delle difficoltà iniziali sta procedendo bene sia per le fasce di età superiore ai 12 anni, sia per l'ultima fascia coinvolta, quella tra i 5 e gli 11 anni. Fortunatamente c'è stata un'importante adesione alla vaccinazione, perché anche i genitori hanno capito l'importanza di vaccinare i propri bambini, quindi di proteggere non solo loro, ma anche gli altri. Ecco, quindi una campagna che ovviamente per fortuna nei numeri sta procedendo molto bene, ma che ha trovato per forza dei cose, dei fisiologici rallentamenti dovuti proprio al fatto che, insomma, arrivavano dei contagi magari in famiglia e uno aveva l'appuntamento, poi non andava, eccetera. A proposito di questo, ti voglio subito fare una domanda di una mamma, Daniela, che ci dice, io avevo prenotato appunto il vaccino per la mia bambina di 10 anni, è risultata positiva da un tampone di controllo per positività in classe, lei non aveva sintomi. Adesso, deve aspettare la scadenza del Green Pass o può un pochettino anticipare quelli che sono i 6 mesi della scadenza? Esatto, da una infezione attiva che le darà una certa immunità, lei deve aspettare per la vaccinazione almeno 3 mesi. Almeno 3 mesi? Sì, dopo di che può essere vaccinata e se il richiamo è entro i 6 mesi può bastare una sola dose senza la seconda, perché normalmente vengono somministrate due dosi a distanza di 3 settimane l'una dall'altra, che equivale ad un quarto della dose degli adulti per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, metà della dose per la fascia superiore ai 12 anni. Bene, si parla anche del vaccino che sarebbe pronto per i bambini ancora più piccoli. Attendiamo gli studi, se gli studi confermeranno la sicurezza anche per i bambini più piccoli, perché non vaccinarli? Anche perché è stato dimostrato che i bambini di età inferiore a un anno possono presentare delle forme di infezione clinicamente più importanti rispetto alle età successive. E quindi forse sarebbe ancora più importante per i piccoli il vaccino. Si tratta sempre dello stesso vaccino in dose inferiori o è un vaccino diverso quello per i bambini molto piccoli? Stiamo studiando sempre questo tipo di vaccino e allo studio questo stesso tipo di vaccino. Quando ci saranno i risultati ne sapremo sicuramente di più. Quindi da una parte il fatto che sia lo stesso vaccino ci dovrebbe, parlo da donna del popolo, ci dovrebbe tranquillizzare nel senso che ormai è stato altro che sperimentato anche sul campo. Specifichiamo che quando il vaccino entra in circolazione vuol dire che ha finito la fase della sperimentazione. Però adesso è anche un po' rodato, passami questo termine. Molto rodato perché ormai sono centinaia di migliaia di bambini che sono stati vaccinati con questo vaccino per il quale si era ottenuta l'autorizzazione ad utilizzarlo. Parlo di paesi anche come l'Israele e gli Stati Uniti dove la vaccinazione era iniziata prima. Quindi i vari studi non hanno documentato delle reazioni importanti alla vaccinazione. Non ci sono stati effetti collaterali gravi, importanti. Qualche segnalazione riguarda la miocardite, quindi l'infiammazione del miocardio post vaccinale. Ma da un punto di vista clinico anche questa forma infiammatoria post vaccinale non si è dimostrata grave, quanto transitoria. Ecco, a proposito dei miocarditi ci chiede, ho qua una domanda di un papà invece. Sono molto contenta quando arrivano le domande dei papà. Benedetto che dice, volevo chiedere alla pediatra se è vero, se ha avuto esperienza di miocarditi sviluppate di conseguenza al covid. Di conseguenza al covid noi abbiamo registrato un caso piuttosto importante che rientrava nella cosiddetta MISC, cioè una reazione infiammatoria sistemica che può assumere una notevole gravità clinica che si manifesta dopo 4-6 settimane da un'infezione da covid anche asintomatica. Qui abbiamo registrato, sì sì, con interessamento multiorgano, nelle forme più gravi si può avere interessamento del sistema nervoso centrale, del miocardio, tessuto epatico, reni, vie urinarie. Quindi può esserci una reazione infiammatoria sistemica legata a questa infezione. Ecco perché l'importanza della vaccinazione per evitare l'infezione e le sue conseguenze. Hai detto una cosa molto importante, ossia che si può sviluppare anche in seguito al virus che è stato praticamente senza sintomi. Senza sintomi, assolutamente. Noi ci siamo accorti in quel caso perché abbiamo fatto la sierologia, quindi prelievo ematico, per andare a dosare gli anticorpi che hanno dimostrato l'avvenuta infezione. Il padre allora ha ricollegato un lievissimo malessere, allora siamo riusciti a risalire ad una probabile infezione sei settimane prima, che poi ha manifestato, ha determinato l'insorgenza di questo grave quadro. Ecco, siccome è una cosa che ovviamente, ripetiamolo, la nostra primaria di pediatria di un ospedale, è insomma abbastanza importante nella zona che di casi di bambini ne vede, ha avuto un caso, quindi sono abbastanza circoscritti. Questi casi gravi sono abbastanza circoscritti, non sono frequenti, però esistono e sono citati anche in letteratura, oltre che con la nostra esperienza. Esistono anche delle forme che noi possiamo definire mild long covid, come il long covid dell'adulto che nel bambino si manifesta clinicamente in forma meno grave. Ok, allora parliamo di entrambi, così i nostri genitori a casa colgono quali possono essere i segnali. Nel caso del, come l'hai chiamata, MIS, Mild, Mild, media, di media importanza, di media gravità. Ecco, che è un'infiammazione generale. È un'infiammazione che potrebbe localizzarsi a livello gastrointestinale, ad esempio, noi la cogliamo attraverso il prelievo del sangue che mette in evidenza un aumento degli indici di flogosi, ad esempio, oppure dei dolori addominali ricorrenti, oppure una mialgia, quindi quei dolori muscolari lievi che perdurano nel tempo e che possono essere riconducibili ad una infezione da covid, quindi non delle forme eclatanti come la MISC, come questa forma infiammatoria sistemica, però meno gravi, ma sempre da ricollegare a quella reazione infiammatoria che l'infezione da covid scatena. Ho capito, quindi dobbiamo stare attenti a segnali tipo male, oppure mal di pancia, dei dolori così diffusi, strani, quindi in quel caso magari è opportuno far vedere il bambino. Invece, in caso di long covid, quali sono i sintomi? Ma una strana spossatezza, ad esempio, oppure, non so, un'infiammazione di tipo respiratorio che non guarisce, che ha quello strascico un pochino più prolungato. In realtà il long covid è più tipico dell'adulto ed effettivamente ci sono molti casi, molte segnalazioni di long covid. È come se restasse strisciante una sorta di infiammazione che riguarda diversi organi ed apparati. Come, ci chiede Laura, come viene trattato un bambino che sviluppa una patologia del genere? Riposo, idratazione, supporto vitaminico, eventualmente un antinfiammatorio che di solito può aiutare nel risolvere o quantomeno mitigare questa sintomatologia, che poi per decorso naturale, nella maggior parte dei casi, scompare, dura qualche mese e poi si ritorna, insomma, alla normalità. Ma se io me ne accorgo prima di questo stato infiammatorio, si può anche prevenire la miocardite? No, non c'è, non esistono degli interventi di prevenzione su questo. Dice, no, guarda, ha preso il covid, inizio a curarlo in maniera preventiva, non si può. No, perché sarebbe una ipermedicalizzazione di una situazione che magari si risolve in poco tempo. Invece la miocardite quando c'è, come si cura? Beh, sicura, i casi che sono stati segnalati non hanno richiesto delle cure particolari se non qualche antinfiammatorio. Farmaci che agiscono sull'apparato cardiovascolare sono stati descritti in pochissimi casi. Comunque è risolvibile. E' una situazione che si risolve. Ok, e non lascia strascichi. E non lascia strascichi nella stragrande maggioranza dei casi. Bene, quindi alla fine della fiera, conti fatti, siccome il covid può dare miocardite, il vaccino potrebbe essere una delle conseguenze sul piatto della bilancia? Sempre meglio vaccinarsi, assolutamente, perché l'infezione, come dicevo prima, può determinare queste situazioni post-infezione, infiammatorie e post-infettive, cosa che con la vaccinazione non c'è, già anche nell'adulto, si è dimostrata la vaccinazione efficace nell'evitare, nell'impedire l'insorgenza di quadri clinicamente gravi. I dati parlano di ricoveri in terapia intensiva non a tale, in terapia intensiva dell'adulto proprio rappresentate da persone non vaccinate. Questo sempre per fare un po' di chiarezza e lasciare un po' di fiducia nelle persone che ci seguono da casa, che ovviamente sono bombardate da informazioni, da più fronti, e noi però vogliamo sempre portare il fronte della scienza e della medicina, che, insomma, sicuramente è più attendibile di quello al quale ci dobbiamo affidare. Allora, detto ciò, la campagna vaccinale sta andando bene, per i bambini, ripetiamo, da quanti anni? Dai cinque anni in su. Ok, quindi aspettiamo cosa diranno per i bambini dai tre ai cinque anni e vediamo di uscire da questo inverno che veramente si trasformi non in una pandemia, ma in una epidemia. Esatto, i dati del momento sembrano essere confortanti, eh? Quindi confidiamo che qualche raggio di luce schiarisca questo momento buio che abbiamo attraversato. Allora, che cosa ne pensa la dottoressa Decembrino del, un po' dell'allargamento delle restrizioni a scuola? Secondo me si intende, insomma... Sì, le abbiamo accolte positivamente, perché questo consente di ridurre il ricorso alla DAD, consente di ridurre quell'isolamento che aveva pochino danneggiato quella che è stata la socializzazione dei nostri ragazzi. Pertanto penso che sia estremamente positiva. Alla fine dell'anno, oltre a goderci le feste, ci siamo proprio trovati in mezzo a questo dibattito che si faceva in altri tavoli, nei tavoli politici, però riguardava proprio le famiglie. Le famiglie stavano male in quel momento e dicevano, oddio, adesso siamo tutti protetti in casa, fra un po' riapriranno le scuole, dobbiamo ritornare al lavoro, eccetera. E' giusto riaprire, non è giusto? La pediatra dice sì, è giusto riaprire, perché sempre su un piano della bilancia non possiamo far perdere ancora socialità ai bambini. Esatto, per andare a ridurre tutti quelli che sono stati gli effetti indiretti che la pandemia ha portato sui ragazzi, quindi non solo effetti clinici, quanto effetti sulla psiche, sulla socialità, per cui ancora oggi noi registriamo quelli che sono gli effetti negativi, che sono stati gli effetti negativi sui nostri ragazzi, perché sono sorte tante paure, addirittura bambini avevano paura di tornare a scuola, di uscire di casa, di contagiare i genitori, fino a gesti estremi come l'autolesionismo, c'è stato un aumento anche dei tentati suicidi in età adolescenziale, molta depressione, per cui riuscire a riaprire le scuole, garantire una certa socialità in un'epoca delicata come quella dell'età pediatrica, è stato sicuramente positivo. Ecco, poi registriamo anche il disagio, giustamente dice Niccolò, non dimentichiamo che questi bambini sarebbero stati a casa, mentre con ogni probabilità i genitori erano al lavoro, quindi un disagio ulteriore. Sì, sì, ulteriore disagio per le famiglie, perché il problema di dover rilasciare soli i nonni che non potevano stare con loro, la difficoltà di trovare babysitter, la necessità di dover andare al lavoro, sicuramente ha creato un disagio non indifferente. Silvia ci dice, ringrazio la dottoressa Decembrino perché si parla sempre molto poco delle conseguenze psicologiche che hanno avuto i bambini. La mia bambina ha avuto una cosa che posso probabilmente definire forte depressione, era proprio cambiata di carattere. Sì, noi abbiamo registrato quotidianamente questo cambiamento di atteggiamento in alcuni bambini. Io posso anche dire che ho notato una sorta di maggiore responsabilità. Alcuni bambini, tu li vedi, sembrano più grandi della loro età. Hanno un senso del rigore, del dovere, cioè portare la mascherina, rispettare le regole. Io poi ho partecipato anche alla vaccinazione in prima persona dei bambini nella fascia 5-11 anni ed è stato un confronto diretto molto molto bello. Cioè loro hanno capito l'importanza dell'epidemia, l'importanza della vaccinazione. A me piace molto parlare con loro e ti rispondevano, sì, voglio vaccinarmi perché voglio tornare in piscina, voglio tornare a giocare con i miei amici. E quindi, sì, sì, sono stati anche loro protagonisti di questa fase. Sicuramente è difficile. Anche perché, diciamocelo chiaramente, Lidia, se per noi adulti è pesante questo tempo, non ce lo ridà nessuno, due anni per un bambino, sono davvero un tempo che se ci fermiamo a pensarci è veramente devastante. Certo, le giornate intere, no? Passate in casa, passare da una fase in cui la tua giornata è scandita dagli eventi, da un determinato ritmo, dagli appuntamenti, andare a scuola, fare i compiti, uscire, riuscire a ritrovarsi in casa davanti ad un pc, dover fare i compiti e poi avere il tempo da trascorrere in casa, quindi creare nuove attività. Allora, adesso mandiamo la pubblicità perché torniamo proprio su questo punto, parleremo proprio di schermo perché ci sono, insomma, un po' di impressioni da parte dei nostri genitori che voglio commentare con te. Pubblicità per noi. Eccoci qua, torniamo in diretta, lo facciamo con la dottoressa Lidia Decembrino, primario di Pediatria all'ospedale Civile di Vigevano, con la quale stiamo facendo una bella chiacchierata che riguarda naturalmente i più piccoli, i più giovani, i suoi pazienti, i suoi bambini, insomma, con la quale lei ogni giorno è a contatto e con la quale abbiamo scoperto, insomma, ha fatto anche la prima parte della campagna vaccinale. Era proprio bello. È capitato anche a me, devo dire, e mi commuoveva il modo in cui arrivavano come dei piccoli ometti a fare il loro dovere, un po' ci commuove anche lo sforzo che abbiamo richiesto a questi bimbi, il nostro malgrado non è che ce lo siamo cercati, però con una riflessione dice guarda dove siamo arrivati, che li dobbiamo vaccinare in pandemia. Vabbè, detto questo... È vero, verissimo. Ecco, questo però è un altro programma, è filosofia, la facciamo un'altra volta, cara Lidia. Rimaniamo su degli argomenti un po' penalizzati, ma molto molto importanti. C'è la testimonianza di un papà, si chiama Fabio, e dice che lui ha vissuto un periodo pesante perché suo figlio non voleva tornare a scuola, voleva fare la dad. Diceva che la dad era più bella, che voleva stare a casa e fare la dad. E ogni volta che, insomma, poi è ripresa la normalità delle cose, ma ogni volta che si riproponeva un momento di dad, il suo bambino era felice e a lui piangeva il cuore. Sì, questo è un caso che, così come questo bambino, hanno vissuto altri bambini. Quella che noi abbiamo definito, peraltro, durante la prima ondata, la sindrome della capanna, che alcuni adulti hanno provato e hanno vissuto, figuriamoci i bambini, quindi il senso di sicurezza della propria casa. Se poi si ha un carattere un po' più, questi bambini, un po' più timidi, per cui la socializzazione, il rapporto con gli altri, già diventa un pochino più difficile, lo schermo, la dad, la distanza dagli altri, li rassicura molto, con le conseguenze sicuramente non positive. però è comprensibile, in una fase di paura, di allarme, il senso di sicurezza che ti dà lo stare nell'ambiente protetto. Diciamo la verità, la diciamo anche un po' fuori da i denti, cara Lidia, mi prendo la responsabilità perché sono una mamma, no? Di quello che dico. Questi atteggiamenti in un genitore possono provocare anche un po' di rabbia, di fastidio? Cioè ci verrebbe voglia di dirgli ma che dici, cioè di andare a scuola? Indubbiamente perché il genitore si deve porre per cercare di capire la situazione psicologica del bambino al suo stesso livello. Se si crea il muro pensando che tutto sia normale, che non dovrebbe accadere questo, soprattutto al proprio figlio, sbaglia. Quindi lì si crea poi l'incomunicabilità. Quindi dobbiamo cercare di parlare, di andare a fondo. Assolutamente sì. Senza arrabbiarci, un bel respirone. No, assolutamente no. Perché anche noi abbiamo provato le nostre insicurezze. Noi probabilmente tra qualche anno capiremo che non saremo più gli stessi di prima della pandemia. Figuriamoci bimbi in una fase evolutiva. Ah, sì. Questo è sempre da tenere in considerazione. A proposito di schermo, praticamente ci arrivano un po' di domande, un po' di preoccupazioni dei genitori sull'abuso di questo schermo. Dice no, dice una mamma. Sono solo che felice che abbiano allargato un po' le maglie. Perché qui ogni settimana eravamo in dad e io sono seriamente preoccupata per i danni da schermo. Assolutamente. Questi sono altri effetti indiretti della pandemia e dell'epidemia. Perché già negli ultimi tempi avevamo constatato che i bambini trascorrevano troppo tempo davanti agli schermi. Vuoi per i videogiochi, vuoi per il telefonino, vuoi per le ricerche e quant'altro. Con la dad questa fase, questo tempo si è ulteriormente dilatato con tutte le conseguenze legate anche alla necessità di stare davanti sempre a uno schermo e quindi di sottoporre i nostri occhi, specialmente quelli dei bambini, ad uno sforzo continuo. Anche perché non sono schermi che hanno quella protezione necessaria. Quindi attraverso dei filtri che creino un minore insulto su quello che è l'occhio, che sappiamo quanto essere delicato. Anche le luci in casa, la distanza dallo schermo. Quindi senza elementi o consigli che possano ridurre i danni da schermo. Per cui consigliare anche ai bambini di staccarsi ogni tanto dallo schermo, di guardare lontano, di strizzare gli occhi, di bere anche tanto. Alcuni consigli sono secondo me... Bere tanto? Sì, perché idrata anche l'occhio, tra l'altro. Anche le strutture interne dell'occhio. Quindi io credo che quando si farà il bilancio sul numero di problemi e tipo di problemi di tipo oculistico, credo che i numeri andranno a sottolineare questi danni da schermo. A proposito di problemi oculistici, sono consigliabili, so che non sei oculista, però un consiglio così da pediatra, quegli occhiali che tolgono la luce blu anche per i bambini. Possono essere un aiuto, indubbiamente sì. Ovviamente ben fatti, solo dietro consiglio dello specialista, possono essere di aiuto soprattutto per quegli occhi un pochino più fragili, perché dobbiamo immaginare che l'occhio di un bambino è un organo in continuo sviluppo. Certo. Allora, c'è da dire che leggevo un messaggio di Mirella, dice in questo sono stati molto bravi gli insegnanti a rispettare gli orari, perché la mia esperienza è che li facevano stare molto poco, poi davano un po' di lavoro da fare da soli. Esatto. E così deve essere gestito. Certo. Ma ci sono un numero massimo di ore che si possono fare in DAD, non è che uno può fare le otto ore come a scuola. Anche perché la DAD e poi c'è l'altro periodo dello studio e poi c'è l'altro tempo trascorso in casa che diventa la TV, che diventa il tablet, che diventa il telefonino, quindi si sommano a quello che è la DAD che viene effettivamente effettuata in sicurezza. Allora, un altro papà dice avevo sempre evitato tablet e telefonini per mia figlia Alice di sei anni, purtroppo la scuola le ha sdoganati per me e quindi sono diventati strumenti per lei accessibili e poi me li chiede anche per altro. Questo è un altro rispondo. Sono diventati una necessità. Poi parliamo anche di un'era in cui noi definiamo questi bambini dei nativi digitali. Non hanno a disposizione questi strumenti tecnologici e quindi diventano bravi, più li usano, più vogliono utilizzarli, più gli impieghi si moltiplicano. Ecco, e quindi bisogna davvero andare in questa direzione, di tornare alla normalità, di cercare davvero di evitare di richiudere le scuole, di traghettarci alla fine dell'anno scolastico e poi, insomma, di sperare. La stessa cosa per lo sport, perché poi va di conseguenza, no, la cosa. Sì, lo stare in casa per tanto tempo, come è stato nella precedente ondata, ha avuto anche delle conseguenze su quella che è stata l'attività sportiva di questi ragazzi richiusi in casa, abbiamo registrato un aumento nel numero dei sovrappesi proprio legati ad una vita sedentaria. Invece lo sport deve essere parte fondamentale della crescita. Io consiglio anche nei periodi di quarantena, quando si è in casa, se si ha a disposizione un terrazzino, un giardino, almeno passare una o due ore fuori, fare attività fisica, respirare, e quella che è l'aria esterna, indubbiamente. Ecco, l'aria esterna in questo periodo non è un granché, però questo abbiamo. Però questo ci tocca. Va bene, senti, a proposito di sport, era un altro punto che ci siamo messi in agenda, perché ovviamente poi i genitori cosa pensano? Questo pensano, dicono, ok, adesso bisogna far fare dell'attività fisica a questi bambini che per passare il tempo smangiucchiano, lo facciamo noi adulti, figurati, i bambini. La dispensa è lì, la noia è tanta e quindi via dicendo. Però bisogna fare della buona attività fisica. La scelta dello sport, no? È ovvio che noi tutti vorremmo, poi figurati, quest'anno abbiamo vinto gli europei, quindi vorremmo tutti dei piccoli calciatori. Poi, insomma, c'è la pellegrini e vorremmo tutte delle piccole nuotatrici. Abbiamo tanti sport, il tennis ci ha fatto sognare e quindi vai a tennis. Però ci sono degli sport consigliati qua, proprio per iniziare, quando i bambini sono più piccoli? Hai parlato bene, nel senso, ogni genitore vede nel proprio figlio un campione in erba, soprattutto in questa ultima fase in cui abbiamo recuperato un po' di medaglie alle Olimpiadi, in giro per il mondo. Quando si sceglie l'attività sportiva, una cosa che io consiglio è quello anche di assecondare quelle che sono i gusti del bambino, non bisogna imporgli quel tipo di sport. Quando loro sono piccoli magari si possono tentare diverse attività. Certamente lo sport che è simmetrico, che aiuta tutto il corpo e il nuoto e che soprattutto non affatica quelle che sono le articolazioni, il peso, quindi si riscuote il massimo rendimento col minore sforzo fisico. E il nuoto può essere iniziato da subito, sappiamo i corsi dei tre mesi, dei sei mesi, ma i veri e propri corsi di nuoto intorno ai tre anni. Quindi cominciare col nuoto è già una cosa molto importante. Poi ci sono degli sport che non possono essere iniziati in età troppo precoce, intorno ai tre, quattro anni. Bisogna aspettare i cinque, sei, sette anni e sono gli sport di squadra. Quindi ogni attività sportiva ha una sua funzione. Intanto è importante perché aiuta il corpo, lo sviluppo del corpo. Intanto insegna una disciplina, soprattutto quegli sport come il tennis oppure l'atletico in cui si è da soli, quindi ci si cimenta e si pone una sfida continua. Si cresce, aumenta la concentrazione. Servono anche a questo gli sport. Gli sport di squadra da consigliare per creare quello spirito di gruppo, quindi lo stare insieme. Può essere la palla canestro. Il calcio, ad esempio, farlo sì da piccoli diventa un mini calcio, però verso i sei, sette, otto anni diventa anche agonistico e quindi può essere importante. Però il calcio, ad esempio, da un punto di vista strettamente fisico, rinforza i muscoli della parte inferiore del corpo, non interessa tutto il corpo o tutta la muscolatura, cosa che invece potrebbe fare di più la palla canestro perché insegna un maggiore coordinamento nei movimenti, impegna la parte inferiore e superiore del corpo. Però nei primi anni io consiglierei cominciare sempre con il nuoto, è importante anche perché imparare a nuotare rappresenta anche una forma di sicurezza. Per i bambini poi quando si va al mare. Lo sci, ad esempio, può sembrare uno sport che deve essere iniziato a bambini più grandi, invece no, è uno di quegli sport che può essere iniziato già a 4-5 anni. Anche portare i bambini a sciare il fine settimana, imparare a sciare, è importantissimo. Bene, e quindi il nuoto io sono d'accordo perché uno sta anche più tranquillo al mare, dice guarda sta a nuotare, non dico che proprio mi posso rilassare, ma insomma sto un attimo più tranquilla. Quindi anche sotto quel punto di vista è indispensabile. Poi sappiamo di quanto sia valido come sport che riguarda insomma un po' tutto il corpo. Il calcio sappiamo che riguarda solo la parte, invece la pallavolo per esempio? Va bene, un po' non tra quegli sport precoci perché poi bisogna saltare, quindi si sottopongono a stimoli importanti quelle che sono le articolazioni, le ginocchia, le anche eccetera. Quindi un pochino più in lato, poi 7-8 anni. A livello così di carattere, è vero che per i bambini più timidi è meglio magari orientarsi per uno sport di squadra? Assolutamente sì perché loro imparano lo stare insieme, imparano la solidarietà, la rinuncia al ruolo, lavorare per gli altri, ma per i bambini più timidi è importante, sono importanti anche le arti marziali. Ah sì? Assolutamente sì perché ci si confronta con l'altro, imparano a conoscere il proprio corpo, le proprie dimensioni e questo li aiuta molto, si concentrano, imparano a dosare la loro forza e poi tante volte i bambini timidi sono quelli che sono un po' più agitati, un po' più aggressivi perché non riescono ad esprimersi con il linguaggio, a socializzare. Il fatto di indirizzare la propria forza in uno sport con dei gesti ben precisi, ben disciplinati li aiuta ad indirizzare poi non solo la forza fisica ma anche quella mentale, cercare di imparano a dosare se stessi e quindi a poi socializzare meglio con gli altri. Bene, qui abbiamo parlato anche di sport perché insomma vi invitiamo, complice magari anche la bella stagione, a portare i vostri figli a fare lo sport e perché no, magari l'occasione anche per farlo insieme, esatto, in una piscina, bambini da una parte, adulti dall'altra ma anche venendo la bella stagione sicuramente da incoraggiare l'attività sportiva ma anche il giro in bici del fine settimana aiuta i genitori e aiuta anche i bambini anche perché si va fuori città, si va dove c'è più verde, aiuta tanto. Certo, aiuta anche insomma a conoscere un po' il territorio che ci circonda, non ci pensiamo a volte però a proporre degli scenari diversi ai nostri bambini vuol dire fargli conoscere, fargli vedere quello che leggono e vedono solo sui libri o nello schermo, in questo caso purtroppo. Allora, era arrivata una domanda, cara Lidia, sulla dentizione del bambino. Allora, ricordiamo che il bambino nasce senza dirvi. Non tutti. Come non tutti? Non tutti, raramente però capita che nascano dei bambini con gli incisivi. Mamma mia, che shock, no? Capita. Quando esce, morde subito la pediatra. La natura ha previsto anche quello. Mentre te? Sì, sì, sì. Allora, altrimenti, diciamo, nella maggior parte dei casi, quando spuntano i primi dentini? Intorno ai sei mesi. Ecco, perché qua c'è una mamma con un bambino di otto mesi e non si vede neanche un dente ancora. Rientra perfettamente nella norma. Tante volte anche oltre gli otto mesi, alcune volte anche a un anno, quattordici mesi. Molto spesso dipende dalla familiarità. Difatti quando questo succede, il genitore ti pone la domanda preoccupato, non si vede un dente, e ho detto, signora, lei quando ha avuto i primi dentini? Eh sì, effettivamente, 12 mesi, 18 mesi, quindi è un fatto niente del tutto normale. Ok, quindi si può. Si può, si può. Si può fare, si può aspettare, insomma, e spuntano, spuntano. Arrivano, prima o poi arrivano. Ce ne accorgiamo anche perché solitamente poi iniziano a stare male. E' fastidiosa la dentizione. La dentizione è fastidiosa perché crea tutta un'ipervascularizzazione a livello gengivale, quindi si viene a formare quell'impalcatura che andrà a sostenere questi denti decidui e molti genitori devono affrontare questa fase che tante volte è piuttosto complicata perché il bambino piange, è requieto, ma è paragonabile quasi ad un mal di denti. Sì, infatti, no, poi magari io mi ricordo il mio, pensavo a tutto tranne che ai denti, gli era venuto un sedere rossissimo, ma rossissimo, ma da spaventarmi. Certo, perché modifica proprio la dentizione, modifica il pH della saliva, di conseguenza che viene declutita per cui le feci diventano più acide durante la dentizione, quindi creano questa dermatite. Pensavo a tutt'altro e invece poi erano i denti. Sì. depressione, probabilmente, perché la dentizione richiede tanta energia e quindi poi passa anche quello. Alcune volte diventa un po' complicato da affrontare, però può passare. Vabbè, comunque. Poi, se li mettono tardi, li mettono anche un po' tutti insieme? Di solito sì. Di solito sì, si lanciano, nessun dente, gliene trovi otto. Allora, bella questa, senti, i denti da latte si perdono tutti? Eh sì, eh. Ok. Il loro triste destino è essere sostituiti dai denti definitivi. Però tutti, cioè quindi dobbiamo controllare bene che si perdono. Cosa dobbiamo fare se un dente da latte non si stacca da solo? Dipende, allora, lì bisogna rivolgersi all'odontoiatra. Cioè, direbbe chiedere una volta come facciamo. Sì, bisogna rivolgersi. Alcune volte se impediscono l'eruzione dell'altro dente oppure determinano un'alterazione all'eruzione del dente definitivo, alcune volte vanno anche estratti, eh. Ecco. Quello sì, succede. Praticamente c'è questa mamma che dice che il suo bambino ha 12 anni ancora tutti i denti da latte. 12 anni mi sembra un pochino tanto, devo dire. Devo dire il vero. Però può essere, sono destinati a cadere in ogni caso, penso. Cadere e cadono? Sì, devono essere sostituiti. Però lì bisogna andare. Quando si fa la prima visita dal dentista? Ma di solito io tra i 4-5 anni faccio fare la prima visita di screening. Assolutamente va fatta. Anche perché è cambiato qualcosa anche nel campo dontoiatrico. Perché, soprattutto nel campo dell'ortodonzia. Prima si interveniva più tardivamente. Si diceva che bisognava aspettare lo sviluppo del maxillo facciale prima di intervenire e quant'altro. Invece le nuove linee guida parlano di interventi più precoci. Per cui ci sono colleghi specializzati in questo settore che intervengono a tempo debito per correggere determinati difetti. E secondo me ha ben ragione. Perché tante volte ci trovavamo delle conseguenze un po' troppo tardive. Invece così si previene l'insorgenza del problema. E certo. E poi magari si evita anche qualche disagio ai nostri bambini. Perché credo che il tessuto sia più morbido quando sono più piccoli sul quale intervenire. Va bene. Ci sono degli integratori da prendere nel periodo della dentizione? Ma no. Noi garantiamo la vitamina D nel primo anno di vita. E ora si parla anche addirittura di estendere questa profilassi al secondo anno di vita. Beh insomma dopo questo periodo chiusi in casa. Più che necessario. Più che un consiglio diventa... La prenderei anch'io. Esatto. Dovremmo anche prenderla anche noi. Perché siamo stati troppo... Per altri motivi. Esatto. Siamo stati un po' troppo al chiuso. La profilassi con il fluoro che veniva seguita prima. Ora non ci sono più le stesse certezze di una volta. Addirittura le nuove raccomandazioni sottolineano l'importanza del fluoro per via topica. Quindi con il dentifricio. Ok. Più che il fluoro per bocca. Prima si dava la pastiglietta. La pastiglietta esatto. E' ancora prima della dentizione. Invece poi era stato visto che l'efficacia si ha quando viene iniziata. Quando già ci sono i denti tra l'altro. E poi bisogna stare attenti ad evitare le iperfluorosi. Quindi un eccessivo apporto di fluoro. Ecco bisogna stare attenti ad evitare anche i dolci. Eh? Ad evitare troppi dolci. Anche quello. Anche quello. Perché purtroppo i dolci rovinano i denti. I bambini fortunatamente è stata pressoché abbandonata l'abitudine di intingere il ciuccio nel miele. Quindi noi vedevamo un tempo denti decisamente rovinati dal miele, dallo zucchero. Oppure caramelle, cioccolata. Queste sono da evitare. E quello che bisogna raccomandare è l'igiene dei denti. Almeno un paio di volte al giorno. E cominciare il più precocemente possibile. Ci sono anche degli spazzolini per i lattanti. Quindi dal sesto mese, settimo mese possono essere puliti. Utilizzati. Sì, sì. Allora, cara Lidia, il tempo a nostra disposizione è finito. Ti propongo già un argomento della prossima volta. Perché ci sono arrivate delle richieste di parlare in generale degli integratori. Qua vogliono integrare, cioè sei genitore ansioso, vuole integrare. Capiamo quali sono giusti e quali no. Ti va? Assolutamente sì. Io sono pro-integratori, già lo anticipo. Non tutti bisogna selezionare, però gli integratori hanno cambiato le nostre generazioni. Allora, vedrete sui nostri social quale sarà, anche sul nostro sito, la data in cui verrà nuovamente il mese prossimo la nostra dottoressa Lidia Decembrino, che io ringrazio come al solito. Grazie mille. Grazie a voi per l'invito. Grazie a te, Maria Rosa. E con voi, cari telespedatori, l'appuntamento è per lunedì. Vi aspetto tutti. Buon fine settimana. Grazie a tutti.